Asittà Uruzzè Islelelelè sa E' da' iš' un prete I' da' noi Mi' se tu ii Mò e Mò e Omore Tramite 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 C'è sa' me K'è Da' No' N' l'ho' N' l'ho' Suutile K'è N' l'ho' N' l'ho' Abri M' come oggi devo prendere, agitare un po' di gente come oggi non è vero, agitare un po' di gente come oggi non è vero, agitare un po' di gente quando volta da giochi, sei a che mi chiede e senti da qui, a te la più potente che vede su tutto, non è vero, non è vero, non è vero non è vero, non è vero, non è vero, non è vero sono ci ambienti, indorante, non è vero, n�atela un po' di gente se non ci rende o nonna, che vede su tutto, non è vero non è vero, non è vero, non è vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.